Ravenna, Ravenna Jazz festeggia 45 anni e dal 4 al 13 maggio sceglie ancora il palco del teatro Alighieri per nomi del calibro di Ciccorea e Menattan Transfer, e big italiani come Fabrizio Bosso. Bosso e Paolo Silvestri Orchestra saranno protagonisti il 5 di un concerto dedicato a un altro mostro sacro della tromba, Dizzy Gillespie. Il 10 sarà la volta dei Menattan Transfer, che con 50 anni di successi mondiali e milioni di dischi venduti sono entrati a pieno diritto nella vocal group o la fame, grazie anche alla capacità di ibridare i generi più disparati, dal pop alla musica brasiliana, dall'RB allo swing. Domenica 13 maggio concerto di Ciccorea, pianista, compositore e vincitore di oltre 20 grammi aers, che ha impresso il proprio nome sulla stagione del jazz rock anni 70 continuando poi a dominare la scena internazionale. In cartellone, tra gli altri, il 7 pazzi di Jazz Young Project, ospiti Paolo Fresu e Ambrogio Sparagna, e il 9, a piangipane, Sara Jane Morris e Antonio Forcione.